Oh ragazzi, ciao a voi tutti, sono giusto Frustalupi no? Quello con la voce in falsetto, anche se in falsetto non è, perché uso la testa quando si fanno altre altre che si cantano, almeno chi usa un certo tipo di tecnica. E niente, mi hanno detto guardarmi intorno perché c'è un sacco di ventascia, tutto quanto, io sono degli essi, sono gli essi in provinciale ancora. E niente, veramente ho, stasera ragazzi ho veramente una cagna nel sonno adesso, scusate, ho tirato fuori la lingua, tutto quanto. E niente, io ragazzi, è così, è dura, è tosta, io non so quello che dico, perché qua c'è tutta gente in giro e ho paura che scappa fuori da un momento all'altro, questi e mi costa, mi assa, mi assa alle spalle, alle spalle, mi guardo intorno, mi guardo intorno perché perché la situazione non concerne veramente voglia di amare o che gli essi è un branco dei cattivi mutui e bisogna stare attenti, bisogna stare, bene, tanto la storia è questa, poco fa, poco avrei, poco giocato, bisogna stabilirli, quello sempre, poco questo cagna virus che c'è, bisogna stabilirli. Ciao belli, buona serata.